Ciao ragazzi, ora faccio un cocktail signature che è dal nostro nuovo menù basato su comic e in particolare faccio il Martin Mistero in cui c'era un numero speciale di questi comic in cui Martin Mistero era in Perù, esplorando Machu Picchu e questo è un tipo di twist tra un'ora di Pisco e un'ora di New York ma vi mostrerò prima di tutto ciò che faccio con il cuore ora faccio con il cuore 20 ml questo non è un contenitore freddo ma in Perù in Frizione abbiamo un alto volume bar quindi bisogna lavorare veloce 30 ml di cuore del cuore e come faccio, provo a dissolvere il cuore con la parte sceglie, per farlo bene e mixato. Dopo questo, aggiungo il carattere principale del nostro drink, che è Pisco, in questo caso uso Pisco la Caravedo, da Porton, made da Quebranta Grave, e l'Egg White, 50 ml, in questo caso, potete usare un mixer, ma sono in un'ottifasione, quindi faccio la tecnica di DRI SHAKING, quindi non senti nessun sound, perché non c'è dentro, ma sembra che sia potente di SHAK, ma stiamo montando l'Egg. All right, I think that's enough, now we can have the ice, at all. all'incontrolissima. Allora, e poi mettiamo un piccolo tocco, la chichia morata, è una tipica piaccia di Perù, made by using, it was already in my jig, made by using a Mais Molato, tipo di Perù, che è praticamente un corno marino, e poi c'è infusione di apple, pineapple, e alcune spezie, come cinnamon, e clove. Dopo questo, un po' di griglia di lima, e chamomile, flore, che chiamavano per il sirope che avevamo prima, come questo. E il multi mister è pronto. Salute!